attenzione peccatori qui è alastone e charlie e siamo lieti di parlarvi del nuovissimo ad spin hotel in realtà è l'è meraviglioso ascoltate se vi dicessi che c'è un posto qui per voi dove potete essere gli eroi che è interessante se vi dicessi che potreste ripartire al nostro hotel c'è un mondo da scoprire addio ai peccati qua non ci si annoia mai ci sono delle regole se no poi sono guai nei lacci metterò gli insetti abbraccerà quegli angioletti si pagherà vorranno stare avanti smettila siamo spesso in disaccordo e non sempre ci cambiamo ma insieme siamo il meglio che possiamo lei ha passione e lui il potere attraverso questo hotel l'inferno diverrà ancora più bel mi è chiaro che vorresti comandar di più la cosa sta sfuggendo un po di mano sono d'accordo quindi prima di rivolgerci alle anime qua giù dovremmo elaborare prima un piano buona idea li vestiremo in modo che si accettino almeno un po ma noi li aiuteremo a cambiare il loro cuore di loro io mi burrerò invece io li aiuterò pollirli aspettarli e poi servirli a tavolo ma è orribile non fare la principessina va all'inferno ci sono già cara siamo spesso in disaccordo e non sempre ci cambiamo ma insieme diamo il meglio che possiamo lei ha passione e lui il potere attraverso questo hotel l'inferno diverrà ancora più bello un'ultima volta per il ritorno vuoi un antipasto passo grazie grazie sarò qui per l'eternità grazie